BELLA A TUTTI QUI RIDNEY Ciao a tutti qui a Revens Stavo dicendo prima che Pish a letto mi inviava un messaggio non è stata la cosa impostata E' venuto così live No non è stata l'opera vista Cioè tra poco ora si collegherà Melissa Satta quindi no problem Bu lo butta per terra Bullismo Qui ragazzi Oh 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 Perché non si può fare tipo un uno contro uno su Minecraft se no Eh no Stavo dicendo mezz'ora fa appunto che come sempre guarda che mi fa il gol No Vabbè No ragazzi no ecco qui dai gol Cioè che è il gol Non ci si crede Cioè fra non è non 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 ci ho mai giocato più Non ci ho mai giocato a questo gioco ragazzi è la prima volta che c'entro Ve lo dico perché Proprio anche per i degli comandi c'è una cosa Cioè assurdo Vabbè ti ho messo le impostazioni di PES alla fine Ecco si ho giocato precedentemente a PES Ah io mi impegno eh perché Vabbè non si sa mai Figure di merda è live Donna mia Oh oh Eh basta su Non ho raccontato all'online qui Mostra bene cioè Bello Si 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 Cioè non lag più che altro Non lag Cioè più o meno Se lagga Lagga del brutto però eh Cioè proprio Però anche la connessione mia giochi bene Tanto alla fine qua non c'è con Oh Roba Eh Roba di power hosting che non c'è come Call of Duty Guardalo Eh beh No ragazzi così inciampa una vicenda Vabbè Eh Un ammazzamento generale Madonna mia Queste partite durano una cifra di tempo qua Perché abbiamo messo quattro minuti ma tanto Ogni due secondi si interrompe il tempo capito E quella è la cosa fatta male più o meno Ragazzi qui io ci sto provando Veramente mi sto impegnando infatti Molto troppo Ah eeeh vabbè Lo lo vedo tramite Non è abbastanza Intanto parlo io ti preoccupato Mi impegna ti Oh qui che ha fatto saldo Allora qui Eh Niente qui provo un mafesa Ah Adesso sto fregando Eh vabbè ma c'hai fuso c'hai fuso Continua Prosegue no Guarda guarda Ha ragione Al volo Quella ha deviata Ma il bello di FIFA 3 è che ci stanno Cioè puoi controllare i colpi al volo Vero? Sì Una cosa stupenda Oblio a Issa Non in questo momento proprio perché Un altro ospite inaspettato Ehm Faccio in preciso E quindi niente Mi sta squillando il telefono Ragazzi qui siamo molto impegnati Siamo uomini molto impegnati anche da tutti i pauri Aspetta Poi faccio un gol e poi la vado a staccare Nooo la parata Stai zitto Telefono di merda Non si sta È silenzioso Eh Eh Siamo sentita in Surround Non si sentirà però No Non è che tanto Dai dai batti Non possiamo fermarci In live In live In live Continua ragazzi In live Non si perderà Madonna Adesso mu quando faccio gole Che tanto mu faccio gole Guarda Madonna mia Questa è Guarda 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 Ragazzi Sto provando Sto provando a deviare No Eh No Rovega Rovega Madonna mia c'hai un portiere Ti stai zitto Madonna mia c'hai un portiere Di merda Ma perché me lo spieghi C'è la Oddio Fregato qui Ragazzi Sta musichetta ci tormenterà Che poi le svegli Che quella è la sveglia Capito È la sveglia È la sveglia È la sveglia Delle 18.50 Non mi chiedete Perché l'ho messa Perché qui a Roma Facciamo proprio noi orari Abbiamo tutto il programma Proprio gente Sì 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 Ha smesso No Continua Fine primo tempo Ragazzi Parla tu Allora ragazzi Qui Niente qui è finito Fine primo tempo 01 per me Non mi sarei mai aspettato Bellissima La sua idea Della sua allarme Che sua allarme Ma poi allarme per cosa? È perché mi devo ricordare Che sono le 18.50 Ah beh allora ci avremmo Per ogni secondo Inizia con un tacchetto Inizia con un secondo tempo 45 E siamo 1-0 Non è neanche 1-1 Ma tanto ora il Bayern Monaco Si impegna perché non ha Guarda guarda Qui No ma sarebbe un fail Un fail assurdo eh Vabbè ragazzi Io non lo volevo dire però Sto facendo vincere Francesco Perché va la prima volta Eh Mi continuo Ragazzi io qui Non so come va la cosa Ma So che è molto più prova di me Ma io ci sto provando ragazzi Ci sto provando Madonna mia Uh L'importante adesso è buttarle tutte fuori No vabbè cioè La cosa è incredibile Cioè Vabbè però alla fine stiamo tagliando Cioè sta avvenendo molto veloce questo Perché alla fine Ho fatto un po' Sto facendo i rodduto scudetto I rodduto scudetto I rodduto scudetto Seguendo Eh sì Cioè alla fine Sono bellissimo Eh Aia Eh No Eh Alla fine Passerà Eh No 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 Ragazzi qui esco Esco sempre A entrargli in mezzo A entrargli in mezzo Madonna Non mi capita male perché Quindi sti giorni Se parla solo così Eccolo ecco Oh si ferma Riparte Oh non devi Il nostro Puglione che fa Che cosa ci sta facendo Eh sì boom È morto Cioè Questo non è caccia Questo è rugby Su FIFA sì è rugby Cioè proprio Poi metti quei portieri strani Cioè Gli arbitri strani Che non ti segnalano niente Cambio Cambio gioco No ma perché No ma poi invita anche me Perché abbiamo due profili collegati È vero Sì che infatti è stato un po' inutile Su FIFA però Ah perché io sono invisibile Ma tu no No abbiamo resettato Neanche Neanch'io ci sto Quindi siamo tutte e due online Ora ci tempesteranno Di messaggi Tempesteranno Tempemperanno Tempemperanno Vieni vieni Oh Eh qui niente Qui altro che street Guarda qua Eh eh Ma questo è proprio Calcio Calcio barilla pasta Calcio Ma che go Che t'ho fatto E poi qui poi A differenza di pesc Puoi esultare Quei Si si può fare la tua esultanza Sì però Ragazzi qui di play Hai fatto che? No 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 però Però è una cosa bella Se è solo il girato Ma Ragazzi Ma la cosa bella che Eh Vabbè Ragazzi qui Sempre in neutro Sempre in neutro È una cosa incredibile Guarda E' bello che su sto commentary si sentirà tipo abbiamo aumentato una cifra, una cifra il livello del microfono Sì, l'abbiamo triplicato Esatto, quindi si sentirà anche il rumore di merda del controller Assolutamente Assolutamente E' d'obbligo Guarda il bocca al centro Però alcune volte è meglio un megafono che avere semplicemente Eh beh, punizione, punizione, attenzione Io non le so attirare No, vabbè, non ci scommetto, qui mi fai gol No, vabbè No, vabbè Sì, sì Tutto mi ha messo Sono stato sorpassato da Gomez Oddio, cioè, proprio di brutto Ragazzi, quella grande, siamo un bel 2-1 No, 3-1 Ah, 3-1? Non lo so Ho perso i conti, mi sa Ho perso i conti O hai perso i monti Non mi sono andato in merda Ragazzi, alcune battute ci verranno Se sentite che non so bene Non lo vedete La pezza E la Lasciate un bel commento Lasciate un bel commento E se anche a voi vi piacciono le battute di merda Mettete mi piace Mi piace ci serve Esatto Non so Allora, guarda, guarda, guarda E guarda, guarda E guarda, cosa si è finita Ottuntunesimo Facciamo così Lasciato un mi piace Se trovi che sto battuto di merda Così Ah, io lascio tirò fino alla fine lo tasto sotto sotto ecco la la qui mi frega non casca poi si sta tirando qui madonna mia mentre ragazzi qui mi sa che andiamo per il 3 vabbè ma fujol 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 è scritto p u g i o l fujol fujol e ho chiamato fujol prima ecco come sono messo ragazzi eh ma è fujol infatti è scritto fujol vabbè infatti vabbè attenzione attenzione ragazzi si mettono a fare pure i trucchi su di me i trucchi le cheat jtag questa ragazzi che cazzo la jtag ha fatto un sombrero vabbè vediamo che noia si mette a 90 vabbè perfetto e ragazzi questo ti apoi ne va fuori niente quindi niente i guantoni i guantoni ci vediamo nel prossimo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo appuntate se vi piacciono appuntamento appuntamento con noi e quindi dai ci vediamo al prossimo video video qui da Reed qui è da Ravens lasciate un bel commento un bel mi piace e iscrivetevi sopportateci bella raga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti